Tutti negativi i tamponi effettuati questa mattina dal gruppo squadra. Parliamo del Pescara, resta invariato dunque il numero dei biancazzurri positivi, sette giocatori e un membro dello staff. Nel frattempo la Lega di Serie B prepara il nuovo calendario che verrà comunicato domenica. La proposta, che dovrà essere ratificata dall'Assemblea dei Club Cadetti, dovrebbe portare allo slittamento delle ultime due giornate, forse all'11 e al 14 maggio. Dunque si giocheranno regolarmente i prossimi tre turni fino al 24 aprile, quindi il torneo verrà interrotto per consentire al Pescara di disputare i recuperi. Già fissato quello casalingo contro Lentella il 27 aprile, con il Cosenza in trasferta si dovrebbe giocare il 1 maggio e con la Reggiana in casa il 7 maggio.